Divertente e divertente, bisogna essere sinceri, con me è Bruno stasera e poi track. Va bene, il gesto non era un track, era un track un po' più volgare. Non posso dire che era un altro track, io nemmeno so pensarlo un altro track. Dire almeno due gesti, secondo me, di Salvini, che in questo percorso di maturazione anche la sua gestualità andrebbe meglio studiata. Uno appunto è questo gesto che non ripeto, che lo fa spesso, e l'altro quando si è parlato di castrazione chimica. Io credo che anche sul piano della gestualità si possono fare passi avanti. Alla prossima intervista gli fai dire che non fa più quei gestacci, abbiamo smoltato. Facciamo promettere questa alla prossima intervista, basta che si gestacci.